Vi presento un po' il mio piano di lavoro che si articola sostanzialmente attorno a quattro punti. Il primo riguarda il percorso che portava le ragazze a diventare maestre ed è il percorso che ha intrapreso la Beata Nicoli, quindi nell'epoca post-unitaria. Il secondo punto è qual era la peculiarità di essere maestre in quello scorso dell'Ottocento e nella prima parte del Novecento. Il terzo è, siccome il titolo era Insegnanti e insegnamenti, vedere i contenuti culturali e pedagogici che venivano veicolati generalmente nell'Ottocento. E infine, cosa possiamo conservare dell'esperienza magistrale ed educativa della Beata Nicoli. Le fonti della mia ricerca è la lettura delle carte dell'apposizio, non so se avete avuto modo di vedere, sono un bel malloppone di documentazioni raccolte per arrivare al processo di beatificazione. La corrispondenza con i genitori che è in parte riprodotta nella posizio, la letteratura sulla condizione magistrale, quindi su cosa voleva dire diventare maestri, alla luce della normativa. Allora, il mio non sarà un approccio teologico, l'incrocio che mi ha portato a contatto con la Beata è del tutto, diciamo, fortuito. Sono stato invitato in diverse occasioni a intervenire su questa persona, su questa vicenda, eccetera. Però non dovete aspettarvi una riflessione di tipo teologico, ma una riflessione di tipo storico. Allora, intanto vediamo la cornice. Noi diciamo che insieme all'Unità d'Italia nasce la scuola. Quindi la scuola elementare è un prodotto, per certi versi, questa è una definizione un po' grezza, ma insomma, dell'Unità d'Italia. Per cui l'investimento che viene fatto nella scuola è un investimento significativo. Nella legge Casati, che è la legge del 1859, che fa da base, da cornice, alla realizzazione di tutto l'impianto scolastico italiano, dalle elementari all'università, noi vediamo che l'istruzione elementare diventava obbligatoria e comprendeva, teniamo bene conto di questo elenco, come prima materia l'insegnamento religioso e poi la lettura, la scrittura, l'aritmetica, la lingua italiana e nozioni del sistema metrico. La scuola era divisa in inferiore e superiore, era un sistema 2 più 2, diciamo, nella parte inferiore erano queste le materie, in quella superiore c'era l'aggiunta di alcune competenze, diciamo, di tipo professionale, non so, per i ragazzi era il disegno lineare, era gli aspetti geometria, era il lavoro di falegnameria, eccetera, per le ragazze i lavori donneschi. Quindi l'istruzione elementare che veniva data gratuitamente ai nuovi cittadini del Regno d'Italia veniva distribuita in realtà nei comuni, perché le scuole elementari erano a carico dei comuni, i quali comuni provvedevano alle scuole secondo i bisogni, in proporzione alle facoltà e ai bisogni dei loro abitanti. Vuol dire che se anche c'era l'obbligo, ma il comune di, io faccio sempre l'esempio Buduzò, perché mi viene bene così, non aveva le sostanze per tenere in piedi e pagare un maestro, la scuola non si dava perché il comune riteneva che non era proporzionale questo obbligo scolastico. Questo è molto interessante perché la Sardegna, che era un territorio con fortissimo analfabetismo, ha affidato la scelta di far nascere e non far nascere le scuole a dei sindaci, a dei consiglieri comunali che erano analfabeti. Quindi nelle carte che sto vedendo, l'archivio di Stato di Cagliari, si vede comune, tante i tali, le crocette invece che le firme dei consiglieri e dei sindaci che dicevano siamo favorevoli all'istruzione, spesso anche a costi notevoli per la comunità. Quindi questo obbligo che è tanto stato utilizzato nella letteratura, eccetera, eccetera, per cui nasce tutta una categoria di figure professionali, i maestri e le maestre, alla quale aderisce anche Nicoli, sia come formazione, sia poi come missione, in realtà è un obbligo molto, come dire, molto teorico, molto astratto, perché la legge diceva che questo obbligo dipendeva dai padri, e diceva che i padri e coloro che ne fanno le veci hanno l'obbligo di procacciare nel modo che crederanno conveniente ai loro figli dei due sessi e in età di frequentare la scuola l'istruzione che vi è andata nelle medesime. Quindi erano i padri di famiglia, e anche questo è un aspetto importante, che decidevano del futuro scolastico dei figli. Quindi vuol dire che per prima istanza era la famiglia che poteva esercitare la cosiddetta istruzione paterna, che voleva dire chi era il genitore, che si preoccupava di trovare un educatore. Quindi, se non c'era un educatore nella comunità, si passava al comune il quale sceglieva il maestro addirittura attraverso un sistema elettivo, quindi venivano eletti i maestri. Ogni comune doveva avere almeno una scuola nella quale sarebbe stata data l'istruzione del grado inferiore. Le scuole erano divise dai maschi e femmine, chiaramente, e un contributo essenziale all'edificazione della scuola popolare è data dagli insegnanti. Notate bene che, per esempio, in Sardegna il ruolo dei maestri era stato esercitato almeno dal 1823-1824 dalle regi patenti di Carlo Felice dai sacerdoti, dai parroci e dai viceparroci. Quindi la scuola elementare era totalmente, pur essendo controllata dallo Stato, perché era lo Stato, era il regno sabaudo che fissava la nascita delle scuole, però era affidata alla parrocchia, affidata ai parroci, perché si riteneva che i parroci fossero gli unici maestri, cioè gli unici in grado di possedere l'alfabeto e di svolgere la professione magistrale. Cosa che non è del tutto vera, perché anche nell'ambito del sacerdozio c'erano parecchie carenze dal punto di vista pedagogico. Allora, proseguiamo perché non interessa in realtà mettere a fuoco la figura della maestra, perché mi piace pensare che Niccoli abbia percorso questo tratto della sua esistenza, quella che la porta ai 19-20 anni, quando poi compie la scelta religiosa, perché era dentro in un clima diciamo sociale, culturale, che vedeva per ragazze della sua condizione sociale, non era certamente un membro del proletariato, del tessuto rurale, del lombardo, eccetera. Le persone che potevano istruirsi, in questo caso raggiungere un'istruzione normale, avevano, soprattutto ragazze, avevano già un certo status intellettuale e anzi, la condizione di maestra, come vedremo, è la condizione che crea una sorta di distinzione intellettuale dentro l'idea della formazione delle donne. Allora, intanto bisogna dire che la legge fissava dei criteri di idoneità per gli insegnanti, che erano idoneità prevalentemente morale, quindi bisognava che l'insegnante fosse degno di stare in cattedra, fissava una serie di doveri, quando dico idoneità intendo anche idoneità fisica, cioè non poteva essere, oggi parliamo di vaccino, non poteva essere malato, non poteva essere balbuziente, non poteva avere delle difformità che lo rendevano poco apprezzabili dal punto di vista pubblico, eccetera, eccetera. Quindi, la patente di idoneità, notate bene, per cui una maestra o un maestro veniva eletto, dipendeva non dal riconoscimento di idoneità, non tanto dal giudizio morale del parroco, quanto da quello del sindaco. Quindi voi capite che è vero che la religione era la materia fondamento della nuova scuola postunitaria, cioè l'Italia nasceva con un'idea di scuola che aveva fondamento la religione, ma questa religione era in qualche modo sorvegliata, concessa da uno stato che voleva riconoscere l'idoneità e leggere gli insegnanti, eccetera, eccetera. Allora, la formazione dei maestri, diventare maestro era, intanto diciamo che nell'architettura della scuola, la scuola elementare della legge casati che riforma tutto il sistema scolastico, la scuola elementare era l'ultima, era in coda al carrozzone, un carrozzone che poneva al centro il ministero della pubblica istruzione che voleva controllare tutto l'apparato dello Stato. Per la prima volta nasce proprio un vero e proprio ministero e non più dei magistrati sopra gli studi come erano in precedenza, dove c'era il rettore dell'università, il vescovo, i responsabili dei collegi, eccetera, ma nasce un'istituzione laica in cui al vertice c'è appunto il governo della scuola, quell'apparato enorme che tuttora esiste, la scuola pubblica italiana è una delle aziende più grandi di Italia perché ci sono tutta una serie di apparati dagli insegnanti al personale della scuola ai provveditorati oggi con un altro nome, eccetera, eccetera, c'è tutto un meccanismo abbastanza centralistico in cui ecco, la questione del diventare maestri non era nel titolo primo che riguardava l'apparato della gestione della scuola, non era nel titolo secondo che riguardava l'università università che diventava tutta e solo dello Stato l'università cattolica nascerà nel 1924 quando si spegne Nicoli perché nasce così tardi? perché fino allora si era creduto che lo Stato non potesse concedere ai professionisti agli avvocati ai medici, eccetera non potesse concedere ai privati la formazione dell'elite e quindi rivendica questo potere andando contro anche delle istituzioni educative che magari avevano altre origini tanto per dire l'università di Sassari e di Cagliari fondate dai gesuiti o dai gesuiti dalla comunità locale eccetera quindi non era il ministero non era l'istruzione universitaria il cuore della legge Casati non era neppure l'istruzione secondaria e classica che era quella dei ginnasi dei licei anche questi uno per ogni regione uno per ogni capoluogo quindi molto parsimoniosamente distribuiti sul territorio non era l'istruzione tecnica l'istruzione elementare era in coda al carro l'ultimo anello della riforma della scuola era la scuola elementare perché dice lo Stato c'è anche l'istruzione del popolo in più dentro l'istruzione elementare ci si dimenticava che esistevano i maestri allora con un punto di un sussulto dal legislatore si dice ma ci sono anche i maestri chi sono i maestri i maestri sono quelli che dopo essere stato un po' di tempo seduti da quella parte passano da quest'altra parte quindi l'istruzione dei maestri è un'istruzione di tipo post-elementare tant'è vero che il percorso si chiama percorso di scuola normale che è il percorso di due o tre anni che si iniziava a 15 o a 16 anni a seconda che si era maschi o femmine i maschi cioè femmine o maschi le femmine iniziavano prima i maschi iniziavano dopo perché i maschi sono un po' più ritardati e quindi con due soli anni di studio da 15 anni si diventava a 17 anni maestri di scuola elementare attenzione perché non vuol dire che l'insegnante iniziava da 6 anni faceva tutto il percorso elementare poi le medie poi faceva perché non esisteva la filiera degli studi esisteva l'istruzione elementare inferiore e superiore un punto di domanda e poi a 15 anni la ragazza andava a frequentare dove esisteva la scuola normale quindi facendo i conti con soli 6 anni di scuola si diventava maestri nel corso inferiore dell'istituto della scuola elementare nel corso superiore un anno in più quindi si arrivava a 18 anni quindi l'istruzione dell'essere insegnanti era sì essere un pochino sopra la cultura popolare ma non troppo sopra la scuola popolare voleva dire essere molto prossimi al popolo alle famiglie al territorio se si fosse data un'istruzione di tipo magistrale come verrà data dal fascismo in poi da Gentile in poi o un'istruzione come la stiamo dando noi adesso di tipo accademico probabilmente non avremmo avuto insegnanti l'insegnante doveva essere vicino anche culturalmente al popolo in più nel corso del tempo ci sono varie riforme una investe anche la nostra Giuseppina perché quel periodo intermedio che saldava l'istruzione elementare alla professione magistrale e alle scuole normali di metodo viene riempito con scuole complementari che erano scuole appunto di complemento di passaggio sono scuole che appunto frequenterà la nostra la protagonista del nostro racconto allora un'altra importante distinzione che diventare maestri o diventare maestre prefigurava degli scenari molto diversi molto diversi perché perché la scuola elementare era estremamente segmentata c'erano le scuole urbane e le scuole rurali due mondi totalmente diversi un conto era essere a scuola al castello un altro era essere a scuola non lo so in qualche altro quartiere della periferia addirittura le paghe erano diverse un conto era essere maestro di scuola inferiore o un conto essere maestro di scuola superiore cioè il maestro non avveniva come oggi che faceva la prima la seconda la terza la quarta la quinta ma stava sulla classe e il maestro delle classi alte il maestrone che teneva le sorti della scuola e c'era la maestrina che stava nelle classi basse ok distinzione ancora tra maschili e femminili per cui abbiamo il maestro con la qualifica più alta nella scuola urbana di città che è il maestro importante che diventa insieme al farmacista non so al dottore all'avvocato uno dei cardini della comunità poi invece c'erano le maestre del del villaggio del del borgo della campagna eccetera che avevano una paghe che poteva essere anche tre volte inferiore a quella dei maestri di città quindi lo status non era uno status molto molto articolato quindi nelle scuole normali e questo è un elemento che ci interessa molto per capire poi la pedagogia della della sua giuseppina non si insegnava la religione non si insegnava la religione quindi la religione che era posta a materia fondamentale dell'istruzione elementare veniva insegnata da delle ragazze che non avevano un insegnamento specifico nella religione perché tutto ciò perché come dico ogni tanto quando mi capita di fare i corsi agli insegnanti di religione noi potremmo fare la storia della scuola italiana tenendo come riflessione la storia la questione religiosa ma non è che uso la scelta della materia religione perché sto facendo il corso d'aggiornamento alle insegnanti di religione perché sto parlando alle suore ma perché la religione è una come dire è una è il rasoio di Ockham che separa cioè che distingue la storia dell'istruzione laica voluta cioè dal gruppo dirigente che ha formato l'Italia che tendeva a laicizzare il percorso dell'educazione e la difesa strenua del cattolicesimo che diceva non possiamo riconoscere lo Stato perché questo Stato addirittura toglie la religione non so prima dall'istruzione magistrale poi addirittura la rende facoltativa nelle singole scuole elementari quindi se noi seguissimo le tappe è stato fatto in più occasioni che segnano il primo riconoscimento dell'istruzione religiosa poi nel 77 la sostituzione della religione con i diritti e i doveri dell'uomo quindi da obbligatore diventa facoltativa poi ancora nell'età giolittiana il tentativo di completa laicizzazione della scuola e la risposta che dice no dipende dalle maggioranze del consiglio comunale se un comune avrà l'insegnamento della religione cioè se seguiamo questa vicenda noi abbiamo veramente la storia dell'istruzione in Italia che ha il merito o il demerito di incartarsi sulla questione scuola pubblica privata cattolica di stato eccetera rendendo tutto questo dibattito fondamentalmente di tipo ideologico più che di tipo come dire esperienziale nel senso che ovviamente nella scuola cattolica c'erano degli straordinari valori come c'erano nella scuola laica si trattava di scegliere si sarebbe trattato di scegliere ma non era possibile dal punto di vista pedagogico quale sarebbe stato un percorso di pacificazione per certi versi allora nelle scuole normali quelle che frequenterà anche giuseppina noi abbiamo l'istruzione che è prevalentemente se vi leggo le materie vedete che c'è la lingua elementi della letteratura nazionale geografia nazionale storia nazionale eccetera persino l'aritmetica aveva un chedi nazionale perché il problema era formare la nazione storia nazionale voleva dire storie che arrivava fino al giorno prima perché si parlava dell'unità d'Italia era in corso la realizzazione dell'unità d'Italia quindi era quasi giornalistica la storia geografia nazionale il bel paese la cartina che compare in tutte le perché bisogna riconoscere che siamo dentro nello stivale tutti dico anche l'aritmetica era nazione l'italiano per forza bisogna imparare una lingua unica ed era un'operazione che andava compiuta nelle scuole elementari ma anche l'aritmetica perché il sistema è un sistema metrico i bergamaschi dalle mie parti misurano in spanne pertiche braccio piede eccetera e da un certo punto in avanti si dice no lo Stato ci impone un sistema metrico allora perché dico queste cose perché la formazione delle maestre della Nicoli avviene dentro dentro un mondo culturale un orizzonte pedagogico che non era certamente l'orizzonte delle suorie di carità insomma vincenziano il tutto il percorso fino ai vent'anni se riflettiamo sulla nostra vita nei primi vent'anni tutti immagino che abbiano un ricordo di quanto importante sono stati gli incontri di questi primi vent'anni ecco e quindi ci si potrebbe chiedere come come avviene questa maturazione se il il contesto è un contesto non era ostile però era un contesto nel senso che per quello che ho potuto capire non non frequenta del un percorso laicizzati di laicizzazione di formazione estremamente nazionale patriottica però ci sono degli acceni che ci fanno capire che il percorso che ha compiuto in Lombardia è un percorso di scuola passatemi il termine pubblica di quegli anni è un percorso dove però funzionava intanto lo strumento la morfologia della formazione delle maestre avveniva dentro i convitti in molti casi i convitti poi gestiti anche da ordini religiosi quindi la consuetudine di lasciare la famiglia andare in un posto dove c'erano coetanei vivere nella comunità rispettare delle regole eccetera io ho avuto modo di constatare perché ho potuto studiare bene l'istruzione a Brescia istruzione a Brescia Brescia Zanardelli Terra della Massoneria Piazza Arnaldo si costruisce l'emblema della laicità mettendo dedicando la piazza a un eretico e dandogli la faccia il volto del monumento che ricorda Arnaldo da Brescia è il volto di Mazzini sul letto di morte quindi un tentativo proprio di inserire nella vita della città la cultura massonica eppure la gestione delle scuole normali è esattamente segue il regolamento dei sistemi educandati o dei sistemi religiosi quindi una moralità molto rigorosa controlli sull'entrata l'uscita eccetera eccetera quindi si poteva essere laici ma non c'era un'altra idea un altro modello per formare le maestre e quello che si verifica è che le scuole normali sono distribuite con estrema parsimonia sul territorio e noi abbiamo erano una per ogni provincia del regno perché è vero che lo Stato ha voluto far nascere la scuola dappertutto però ha voluto anche controllarla dappertutto quindi tendenzialmente pochi poche persone colte preparate una buona diffusa cultura popolare ma pochi centri di formazione superiore quindi nove scuole normali femminili e nove masquili una per ogni provincia del regno al tempo delle casate erano nove le province per man mano si va allargando l'Italia si unifica eccetera quindi noi abbiamo un'assenza quasi totale di istituti di formazione dei maestri alle quali si sopperisce con corsi semestrali trimestrali con tirocini eccetera e c'è un continuo affanno per quanto riguarda la preparazione delle maestre che avendo questo percorso diciamo rapido di formazione di fatto non era costituire la classe magistrale non era costituita da insegnanti che avevano una particolare solidità dal punto di vista intellettuale c'è un'ultima cosa che adesso che voglio dire mi verrà tra un attimo passaggio importante è che sostanzialmente ecco è questo che i comuni preferiscono di gran lunga le maestre rispetto ai maestri perché preferiscono di gran lunga le maestre rispetto ai maestri perché le maestre costavano molto meno per la lese che e e perché il sistema elettivo prevedeva che si prendessero maestre cioè maestri e maestre con un contratto triennale e poi rinnovato tacitamente per un secondo triennio dopodiché i maestri diventavano assunti stabilmente le maestre veniva meglio lasciarle a casa si sperava che magari nel periodo dei sei anni a quell'età magari ci sposassero facerci figli eccetera eccetera quindi la formazione della beata Nicoli avviene in un piccolo borgo della provincia di Pavia lo sapete che si svolge in una famiglia che aveva certamente una come dire un retroterra di sincera cristianità di insomma di aderenza al Vangelo eccetera famiglia borghese il padre era magistrato e il territorio dove nasce io ci arrivo per via indiziale nel senso che conosco il Pavese per gli studi che ho fatto rispetto allo storio dell'istruzione in provincia di Pavia non so esattamente cosa è successo nel caso della beata Nicoli però posso immaginare che se ha frequentato come ha frequentato il contesto Pavese per esempio il padre avrà incontrato l'ambiente dell'università di Pavia che era un ambiente dove la cultura era di tipo laico dove c'era una forte tradizione laico laicista a tratti positivista massonico il territorio era un territorio ricchissimo di istruzione c'era un liceo classico c'erano cinque ginnasi c'erano roba come 700 scuole elementari quindi veramente una fioritura di livello di alfabetizzazione alto mancava però la scuola normale e si si sopperisce poi si arriverà ad avere appunto la scuola normale che frequenterà anche la Nicoli all'interno comunque di una di un orizzonte pedagogico di ispirazione laico positivistico siete vivi ancora allora 1882 termina 1883 termina il percorso ha frequentato sì allora perché sono anni anche abbastanza importanti perché appunto sono anni che vengono dopo 1877 1887 cioè l'affermazione della sinistra storica che è quel movimento non è la sinistra comunista socialista eccetera eccetera si chiama sinistra storica come destra storica perché precede l'avvento dei grandi movimenti di massa ma è un orientamento che privilegia sicuramente la scolarizzazione l'abolizione sulla tasso del macinato l'attenzione ai ricassi popolari ma anche la licizzazione della scuola con l'introduzione dei diritti e doveri del cittadino allora quindi il maestro e la maestra hanno certamente una funzione pedagogica ma anche una funzione potremmo dire politica cioè lo Stato crede che la trasmissione dei valori patriottici non essendo connaturata con l'esperienza nazionale non c'è stata una rivoluzione francese col popolo cresceso in piazza c'è stato un movimento quello risorgimentale che di fatto è stato molto elitario molto borghese e allora c'è bisogno di museificare il risorgimento cioè di dire qui è passato Garibaldi di metterci la lapide di dire che la piazza centrale è una delle piazze più importanti di Sassari si chiama piazza d'Italia e la via si chiama via Roma perché attraverso questi richiami a via Roma via 20 settembre piazza d'Italia che è passato Garibaldi qui c'è stato questo quest'altro il popolo entrasse nell'idea che siamo parte dell'Italia obiettivo forse non riuscito a parte i campionati europei di calcio e qualche altra affermazione però di fatto il tentativo forte era di dire a voi maestri mettetevi a far leggere le cose che rendono grandi noi italiani e farvi conoscere l'italianità salto un po' perché allora c'è un passaggio che è importante spiegavo che la formazione delle maestre avviene in un contesto che fa essere l'insegnante un pelo sopra diciamo il sapere del popolo perché tendenzialmente su popolazione analfabete le donne erano più analfabete dei maschi e le donne che potevano l'unico canale di istruzione di tipo superiore era appunto la scuola normale quindi perché c'era questo come diranno questa resistenza alla alla formazione delle donne ma intanto c'era un pregiudizio che è un pregiudizio storico che temeva la femme savant la donna sapiente la donna istruita si temeva che la donna istruita destabilizzasse e fosse potenzialmente avversiva rispetto a un programma che era certamente un programma maschilista che assegnava alla donna un ruolo molto preciso tuttavia questo questa questa condizione quest'idea viene man mano erosa nel corso del tempo sia perché serve servono donne da inserire nella scuola sia perché c'è un po' una crisi anche dell'altro canale diciamo di di formazione che è il sistema degli educandati i conventi le clausure eccetera eccetera e quindi la condizione della donna istruita maestra era anche un modo quasi secondo alcuni non so se poi è vero di di welfare di assistenza sociale con la crisi della famiglia patriarcale con il fatto che la donna nella famiglia patriarcale non avesse un ruolo particolare la donna non sposata soprattutto si dice beh la donna non sposata può fare la maestra è importante questa idea della di una sorta di missione e donazione completa nella professione magistrale di una sorta di verginità consacrata già nel mondo laico si diceva che se la maestra non fosse stata sposata avrebbe avuto un titolo in più perché sarebbe stata innamorata dei suoi bambini sarebbe stata mamma di tutti i bambini se invece il maestro fosse stato celibere sarebbe stato un bel problema perché non si riusciva a inquadrare un maestro che non era sposato e che amava i bambini poteva essere potenzialmente una figura che avesse passioni sessuali orientamenti sospetti quindi al maestro lo facciamo sposare appena è possibile perché altrimenti la comunità lo guarderà male alla maestra facciamola non sposare perché almeno si dedica totalmente alla missione magistrale non so se questo può essere un indizio come dire di una di un atteggiamento di disponibilità al fatto che al nubilato alla consacrazione alla virginità eccetera però certamente si sapeva che essere maestre comportava anche un po' atteggiamento questo orientamento ovviamente la diciamo il suo Nicoli veniva da una storia familiare per cui evidentemente la formazione magistrale era probabilmente funzionale anche a un disegno invece di tipo di strategia familiare di conservazione dello status quo essere anche la madre era istruita essere istruiti dava migliori chance di trovare poi dei coniugi come dire che fossero della stessa classe sociale dei professionisti eccetera eccetera salto la parte della formazione minuta insomma con i dettagli della formazione scolastica se non per un passaggio che la scuola normale era diretta da un certo Giuseppe Pasotti che era uno dei degli uomini più importanti per quanto riguarda la formazione i corsi di aggiornamento per gli insegnanti in particolar modo i corsi di aggiornamento per l'avvio all'agricoltura perché lo dico perché è molto probabile che questo questo insegnante che era la figura poi di riferimento che sarà quello che la premierà perché Nicola era stata tra le migliori alunne della scuola potesse essere comunque un riferimento di un laico di una figura laica ma con una una sua saggezza una sua capacità di una sua leadership in qualche modo il direttore c'è un in caso esemplare quando fa il discorso finale alle alunne fa un discorso dicendo quali sono i doveri dei maestri come bisogna essere zelanti coscienziosi modesti lontani dagli eccessi era un maestro laico era un dirigente laico ma parlava un linguaggio che sarà poi anche il linguaggio della pedagogia se vogliamo della Nicoli ci sono dei tratti abbiamo della corrispondenza nel quale la Nicoli riferisce il disappunto perché mancava la formazione religiosa si trovano anche elementi che ci fanno capire che la vita collegiale nella scuola preparatoria nella scuola normale fosse era una vita faticosa gli affetti familiari erano certamente preferibili alle durezze della vita in comunità c'è un passaggio che mi piace sottolineare poi vado alla seconda parte se no mi dilungo troppo è quello in cui è quello in cui muore Garibaldi muore il 1882 se non ricordo male e Giuseppina riceve è sorpresa dal fatto che si faccia la sospensione dell'attività didattica un omaggio all'eroe dei due mondi e lei dice ma qualcuno è contento a fare la festa che è finalmente morto uno degli elementi destabilizzanti la cultura cattolica i movimenti del favorevoli insomma alla posizione della chiesa altri invece sono dispiaciutissimi e lei dice ma io penso spero che si ricorda dell'eroe dei due mondi non solo come capitano ma anche come buon cristiano quindi cercava di vedere il buon cristiano anche in Garibaldi ovviamente nel frattempo si rende conto del valore dello studio e e del e del come dire della sua personale dell'efficacia insomma del del suo magistero perché ha modo di sperimentare l'attività di insegnante un po' con le sorelle un po' con i vicini eccetera e con i poveri che incontrerà durante le vacanze estive e poi nel 1883 manifesta in maniera del tutto sorprendente per la famiglia senza averne parlato con nessuno la vocazione per la vita consacrata eccetera allora dal punto di vista degli insegnamenti e quindi vado nella parte più pedagogica della mia riflessione io direi che bisogna tener conto di una di uno sfondo che è lo sfondo che sta vivendo il cattolicesimo in questi anni è vero che c'è diciamo due 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 piste una pista che riguarda il modo di trattare il bambino tra 800 e 900 è innegabile che da Rousseau in poi si ha uno scardinamento si rompono si rompe una catena la catena per cui il bambino era plasmato costruito sagomato dall'educatore la scuola che che aveva frequentato Spano per dire un intellettuale sardo nel primo ottocento era una scuola in cui si parlava il latino ok il bambino non capiva assolutamente cos'era il latino e veniva per questo magari malmenato perché l'insegnante presupponeva che la testa del bambino si convertisse a una lingua che era del tutto estranea già l'italiano era una lingua straniera figuriamoci il latino ma non c'era nessun pensiero nell'educatore dire ma poveretti come fanno a capire andiamo agli incontro no questa era la scuola educare una via imparare il latino e quindi educare un dogma latino preghiera quello che volete e si partiva da lì con Russo si dice beh prima di tutto c'è il bambino prima di tutto c'è la natura e quindi dentro il mondo non cattolico ma in generale dentro il mondo della pedagogia si dice il puerocentrismo il bambino al centro e attorno il maestro questo è un contorcimento della tradizione pedagogica importantissimo quindi dobbiamo tener conto di questa cosa qui che ha tutta una serie di gradazioni negli anni in cui c'è la la Nicoli c'è la questione del peso della scienza la scienza che diventa determinante non solo perché Darwin scopre l'origine della specie ma perché si dice che l'educazione non è un fatto morale ma è un fatto naturale scientifico quindi se io voglio ottenere determinati risultati nell'ambito dell'educazione non conta la morale l'etica conta l'abitudine conta l'esercizio quindi essere educatori o allevatore di cavalli è la stessa cosa anzi Spencer diceva tante volte mi trovo nel salotti borghesi e si parla dei cavalli e come arrivare a farli correre a incrociare le razze eccetera eccetera quando chiedo a questi genitori a questi esperti di cavalli come stanno i loro figli ma io dei figli non mi occupo ti occupi dei cavalli non ti occupi dei figli perché sui cavalli si poteva applicare le regole scientifiche e sui figli no e quindi Spencer dice no no fate come fate i cavalli anche coi figli questo è il mondo il mondo diciamo della cultura pedagogica che andava per la maggiore e quindi gabelli quindi tutti questi ardigo ma non mi soffrevo dall'altra parte c'è il problema del mondo cattolico a cui evidentemente non potevano essere strane le suori di carità un problema del mondo cattolico che era che a un certo punto si afferma uno stato nazionale che rivendica una serie di diritti che in precedenza erano anche stati della chiesa di spazi di temporalità eccetera eccetera e questo stato che inizialmente sembrava potesse essere percorrere un cammino con il Pio IX insomma con una forma di conciliazione la realizzazione delle delle costituzioni eccetera a un certo punto invece questo questo il volto di questa unità d'Italia è tutta contro la tradizione cattolica e quindi il mondo cattolico è un po' contorce è costretto a dare un giudizio sulla 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 classe politica e il giudizio che viene dato è un giudizio molto severo molto intransigente cioè sostanzialmente di dismissione non esiste un partito di rappresentanza dei cattolici i cattolici che erano il 98% della popolazione e che erano la religione cattolica era posta a fondamento dello stato sabaudo non si vedono rappresentati nella comunità cioè non si vedono scelgono di non essere rappresentati nella comunità politica questo vuol dire che i cattolici non sono presenti nella società no questo vuol dire che i cattolici proprio perché non partecipano le elezioni politiche non hanno un partito eccetera si rendono conto attraverso l'opera dei congressi attraverso il movimento cattolico liberale attraverso il pensiero sociale della Chiesa che bisogna essere nel mondo quindi quando i cattolici e Nicoli fonda organizza anima la comunità con scuole asili sostegno incarcerati la buona stampa le casse rurali le assicurazioni eccetera fanno politica fanno fermento cercano di essere cattolici senza essere temporali in qualche modo almeno nella fase quindi noi abbiamo questo fermento della tradizione cattolica che è molto importante che rende protagoniste uno può dire ma le suore poverette costrette la gerarchia ma queste avevano in mano strutture con centinaia di studenti avevano avevano trattavano con le amministrazioni comunali avevano problemi con la realizzazione materiale con i cantieri voglio dire non era facile era un'imprenditorialità una soggettività un protagonismo femminile straordinaria ovviamente anche dentro il mondo cattolico c'era una fortissima lacerazione tra chi dice a un certo punto soprattutto nel passare degli anni che poi sono gli anni della della sua ora insomma tra chi dice bisogna andare a aspettare che il nemico muoia perché uno stato che è senza religione che è senza fede che che vuole essere laico a un certo punto crollerà e chi diceva attenzione forse si possono trovare delle occasioni di conciliazione eccetera eccetera e quindi tutto un movimento che è anche di riflessione dalla rerun novarum che dice insomma gli operai si lamentano le questioni che gli toccano sono vere la modalità con cui rispondono sono un po' discutibili il scioper eccetera però bisogna prestare attenzione oppure la posizione di chi diceva eh no attenzione perché se si diffonde il socialismo se si diffonde la cultura lo sport eccetera dove andremo a finire dove i nostri giovani chi li educherà e quindi rigore quindi obbedienza quindi catechismo quindi il primo possibile evitare che tenere insieme il gregge dei fedeli quindi la buona stampa la questione del modernismo la pascendia c'è tutta una serie di movimenti che sono come dire di preoccupazione nei confronti della dispersione del 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 popolo dei fedeli e per esempio dal punto di vista pedagogico io leggo questa preoccupazione quando quando sento che suor Nicoli andava al porto a far catechismo risponde esattamente a quell'idea che dice la comunione è fatta la fare prima possibile viene anticipata l'età della comunione che vuol dire che la chiesa applica i principi della Montessori cioè che il bambino ha un valore anche fin da piccolo però vuole anche dire che prima li prendiamo prima li salviamo più difficile sarà che il peccato si annidi dentro le comunità eccetera che si perdono i bambini nella società eccetera allora io credo che andando un po' verso le conclusioni anche se ho tagliato molto poi magari nel dibattito riusciamo a discutere ancora allora io credo che Sor Nicoli non aveva certamente alcun intendimento politico esplicito una vocazione pedagogica rigorosa che avesse studi non ci sono prove di a parte forse un'indicazione che dà alle seminariste che è molto bella molto precisa sul profilo dell'insegnante ma non ci sono citazioni che ci fanno capire che c'è stata una lettura dei grandi intellettuali pedagogisti eccetera però è sicuro secondo me è sicuro che l'esperienza sul campo fa percorrere alla alla sua ora delle esperienze che sono un po' della storia della pedagogia dell'otto novecento ne indico alcune il concetto dell'esemplarità cioè che il maestro deve essere esemplare e che l'educatore deve essere coerente è molto interessante perché non è non è più nella tradizione dogmatica per cui il maestro è tale perché ha la funzione magistrale ma il maestro è tale perché è l'esempio è esemplare questo è molto importante oppure l'idea che la didattica non debba essere noiosa non debba essere soltanto trasmissiva ma debba comprendere il teatro non era così pacifico che nell'ambito religioso che era così sospettoso nei confronti della modernità si accettasse il teatro c'era c'era stato un altro che si occupava di teatro di gioco e di recuperare i ragazzi con un metodo preventivo ed era da un bosco e non è un caso che i luigini come si chiama l'oratorio che attiva la nicoli era un'animazione dei giovani molto gioiosa e quindi vuol dire che magari non ha frequentato Don Bosco direttamente anche se essendo stato a Torino è possibile anche che ci siano sicuramente ci siano stati dei contatti però ecco questa questa prospettiva attivistica senza aver letto l'attivismo io lo ritrovo e quindi io penso che il ripercorrendo le pagine dell'esperienza proprio sul campo condotte poi sono tantissimi dai i vari circoli femminili le varie iniziative veramente di di grande spessore dal punto di vista di di grande impatto sociale ecco anche lì potremmo dire una espressione di una determinazione politica che non era politica ma era riconoscere che occorreva un servizio la guerra mondiale i diseredati i bambini del i facchini del porto che andavano aiutati tutto questo è dentro una capacità di riconoscere cristianamente o socialmente dei bisogni e quindi noi potremmo dire concludendo che intanto l'educazione è il luogo della testimonianza cioè si può testimoniare la fede in molti modi è il modo che viene scelto dalle suori di carità il modo la vocazione la il carisma che esprime suor Nicoli è quella dell'educazione quindi si può fare carità e ce lo dimostra attraverso l'insegnamento che non vuol dire solo scolastico ma vuol dire insegnamento secondo che è possibile per tutti percorrere la via dell'educazione quindi che essere carcerati malati orfani eccetera non significa essere spacciati cosa che non era così comune anche nel mondo laico il mondo laico è un mondo severissimo nei confronti di chi fallisce ok io ti do l'educazione ma se tu sbagli ti arrangi ok e c'è questa idea che tutti sono recuperabili e ultimo che è possibile anche per la donna anche per la donna consacrata anche per la donna consacrata che si trova in una regione della periferia perché la sardegna era c'erano le missioni nelle indie e poi c'erano le missioni in sardegna il buon vassallo che gesuita anche lui morto in odore di santità vuole si converte dice io voglio andare a tutti i costi nella missione la madre che era intima del re riesce a bloccarlo a Genova e dice tu non parti per le missioni sarebbe finito nel film mission perché in quegli anni stavano partendo proprio per le riduzioni del Sud America tanto è vero che a Genova la barca parte lui è arrestato dai carabinieri mandati dal re e la barca che va nelle indie affonda e lui dice questa è una prova che forse non dovevo proprio andare affonda nel porto però lui dice io in India ci devo andare e allora il re gli dice guarda ce l'abbiamo noi le indie te la senti di andare in Sardegna ed è quello che ho fatto io grazie grazie